Il Castello di Duino è diventato famoso grazie alle legie duinesi di Rilke e diventa ormai anche un appuntamento per i giovani poeti. Quest'anno sono 900 che hanno partecipato con i loro versi al premio Poesia Castello di Duino. Per sei giorni si incontreranno e si confronteranno con workshop e laboratori. Passiamo ora agli appuntamenti.